ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi voglio farvi vedere come realizzare questi cestini a forma di coniglietto dato che la pasqua si avvicina possiamo usarli come decorazione per abbellire le nostre case o i nostri giardini ma è anche una bella idea regalo perché possiamo poi riempirli di ovetti di cioccolato caramelle o altri dolci è un progetto semplice e fatto veramente in pochissimo tempo intanto andiamo a vedere cosa ci serve e poi possiamo partire col nostro tutorial allora per questo progetto io vi consiglio di usare un 100% cotone che sia abbastanza spesso questo per dare una buona stabilità al cestino se voi non dovreste avere in casa un cotone così grosso potete usare un cotone più fino e lavorarlo a due fili ci serve anche l'uncinetto nel mio caso è l'uncinetto del 4 e mezzo una forbice un ago da lana poi per gli occhietti io ho scelto questi occhietti di sicurezza ma anche qui se non li avete in casa potete usare bottoni perle o anche se avete del feltro nero tagliare dei cerchi e poi con un po di colla fissarli per imbottire il nostro cestino o trovate in commercio questa questa erba naturale o se no potete anche semplicemente mettere un po di ovatta e adesso non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro prendiamo ora il filato l'uncinetto andiamo a fare un anello magico e una catenella per fissare l'anello all'interno dell'anello andiamo a caricare 6 punti bassi entriamo peschiamo il filo due asole prendiamo il filo e chiudiamo le due asole insieme il primo punto basso il secondo il terzo il quarto quinto e il sesto punto basso prendiamo adesso il filo qua dell'inizio tiriamo così il nostro anello si chiude e in questa lavorazione non andiamo a lavorare a spirale ma chiudiamo ogni giro per cui entriamo nel primo punto basso contiamo indietro 1 2 3 4 5 6 entriamo nel primo punto basso che è sempre un po non ce l'abbiamo fatta e andiamo a fare un punto bassissimo e abbiamo terminato il primo giro una catenella per iniziare il secondo giro e in questo giro faremo due punti in ogni punto del giro precedente praticamente faremo un aumento in ogni punto entriamo nel primo punto qua dove siamo entrati per fare il punto bassissimo entriamo e andiamo a fare un punto basso e nello stesso punto un secondo punto basso nel prossimo punto libero i prossimi due punti bassi nel prossimo punto anche qui due punti bassi faremo due punti bassi in ogni punto e alla fine del giro ci troviamo con 12 punti terminato il giro chiudiamo poi nel primo punto basso con un punto bassissimo attenzione allora questo era il punto bassissimo del giro precedente la catenella e questo era il primo punto basso entriamo e andiamo a fare un punto bassissimo e abbiamo terminato anche questo giro catenella per iniziare il prossimo giro e in questo giro faremo un punto basso singolo e nel punto successivo l'aumento poi di nuovo un punto singolo e un aumento e questo per tutto il giro entriamo di nuovo qua nel primo punto dove abbiamo fatto il punto bassissimo e facciamo un punto basso nel punto successivo l'aumento due punti nello stesso punto poi di nuovo un punto basso singolo e nel punto successivo l'aumento un punto basso e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo con 18 punti bassi e chiudiamo anche questo giro nel primo punto basso che abbiamo realizzato entriamo e facciamo un punto bassissimo iniziamo il prossimo giro sempre con una catenella in questo giro faremo due punti singoli e nel terzo punto l'aumento poi di nuovo due punti singoli e nel terzo l'aumento e questo per tutto il giro entriamo nel primo punto e andiamo a fare un punto basso nel prossimo punto un punto basso e nel terzo punto l'aumento due punti nello stesso punto poi di nuovo un punto basso un punto basso per un totale di due e nel terzo l'aumento faremo due punti bassi e un aumento per tutto il giro e alla fine ci troviamo con 24 punti e poi chiudiamo anche questo giro entrando nel primo punto e facendo un punto bassissimo catenella iniziamo il prossimo giro in questo giro faremo sempre tre punti bassi singoli 1 2 3 e nel quarto l'aumento e questo per tutto il giro entriamo nel primo punto e andiamo a fare un punto basso nel secondo punto un punto basso nel terzo punto un punto basso e nel quarto poi l'aumento due punti nello stesso punto allora tre punti e un aumento per tutto il giro e alla fine ci troviamo con 30 punti ho terminato anche questo giro nel primo punto basso con un punto bassissimo catenella andiamo a fare l'ultimo giro di aumenti in questo giro faremo quattro punti bassi singoli e poi nel quinto l'aumento e questo per tutto il giro entriamo nel primo punto e andiamo a fare un punto basso nel secondo punto un punto basso nel terzo punto un punto basso nel quarto punto un punto basso e poi nel quinto punto l'aumento facciamo due punti nello stesso punto faremo quattro punti e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci troviamo con 36 punti e poi chiudiamo anche questo giro come abbiamo fatto con tutti gli altri giri entrando nel primo punto e facendo un punto bassissimo allunghiamo l'asola e tagliamo il filo perché io vado a fare un cambio colore chiaramente chi farà tutto di un solo colore andrà avanti col colore che ha in lavorazione mi prendo il mio secondo colore che in questo caso è questo fucsia e vado ad agganciare l'uncinetto in un qualsiasi punto prendendo però solo la costina dietro del punto allora i nostri punti hanno sempre due asole un'asola davanti e un'asola dietro noi entriamo nell'asola che sta dietro peschiamo il filo il colore nuovo facciamo passare il colore andiamo a fare una catenella perché adesso andremo a lavorare non più con punti bassi ma con mezze maglie alte filo sull'uncinetto rientro nello stesso punto pesco il filo ho tre asole prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme abbiamo fatto la mezza maglia alta ci lavoriamo anche la codina filo sull'uncinetto nel prossimo punto solo nella costina dietro e andiamo a fare una mezza maglia alta filo sull'uncinetto nel prossimo punto solo nella costina dietro mezza maglia alta filo sull'uncinetto nel prossimo punto sempre nella costina dietro mezza maglia alta adesso andremo a fare questo lavoro fino al termine del giro una mezza maglia alta in ogni punto prendendo però solo la costina dietro di ogni punto terminato il giro lo chiudiamo entrando allora qua abbiamo la prima mezza maglia alta entriamo nelle due asole del punto e facciamo un punto bassissimo e abbiamo terminato questo giro e adesso il lavoro diventerà molto facile perché andiamo a fare un totale di cinque giri il primo l'abbiamo già fatto per cui altri quattro giri dove lavoriamo i punti come si presentano una mezza maglia alta sopra ogni mezza maglia alta del giro sottostante iniziamo sempre con la catenella adesso prendiamo di nuovo tutte e due le asole del punto filo sull'uncinetto entriamo nel primo punto in tutte e due le asole e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta nel prossimo punto la prossima mezza maglia alta lavoro molto semplice alla fine del giro chiudiamo il giro facendo un punto bassissimo nella prima mezza maglia alta faremo la catenella e inizieremo il prossimo giro allora questo è il nostro secondo giro in totale andiamo a fare cinque giri e poi ci rivediamo allora ho terminato i miei cinque giri uno, due, tre, quattro e cinque e adesso andiamo a fare il primo orecchio una catenella e adesso andiamo a fare sei mezze maglie alte filo sull'uncinetto entriamo nella prima e andiamo a caricare la prima mezza maglia alta la seconda terza quarta quinta e sesta sei mezze maglie alte catenella e voltiamo il lavoro e adesso andiamo a fare altre due righe dove andiamo a ripetere sei mezze maglie alte una catenella ancora una riga con sei mezze maglie alte catenella e adesso andiamo a fare qui all'inizio e alla fine della riga delle diminuzioni prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nel primo punto peschiamo il filo abbiamo tre asole e le lasciamo sull'uncinetto adesso senza far nessun gettato entriamo direttamente nel prossimo punto disponibile peschiamo il filo abbiamo quattro asole prendiamo il filo e chiudiamo tutte quattro le asole insieme e di due punti abbiamo fatto un punto poi lavoriamo le prossime due maglie una e due e le ultime due facciamo di nuovo la diminuzione filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo punto peschiamo il filo abbiamo tre asole senza fare nessun gettato entriamo nel prossimo punto peschiamo il filo e poi chiudiamo tutte e quattro le asole insieme adesso abbiamo quattro mezze maglie alte catenella voltiamo il lavoro e adesso facciamo un punto sopra ogni punto per un totale di quattro una catenella voltiamo il lavoro adesso facciamo di nuovo due diminuzioni filo sull'uncinetto entriamo nel primo punto peschiamo il filo senza far gettati entriamo nel prossimo punto peschiamo il filo e chiudiamo tutte e quattro le asole insieme e anche qui facciamo una diminuzione e siamo rimasti con due punti catenella voltiamo il lavoro adesso andiamo a fare l'ultima diminuzione entriamo nel primo punto entriamo nel secondo punto e chiudiamo le nostre asole catenella tagliamo il filo e lo sfidiamo e abbiamo così terminato il nostro primo orecchio saltiamo un punto entriamo con l'uncinetto nel prossimo punto facciamo passare il filo una catenella e andiamo a ripetere la stessa identica cosa che abbiamo fatto su questo orecchio qua e andiamo a realizzare il secondo allora terminato anche il nostro secondo orecchio intanto il lavoro si presenta così adesso andiamo a mettere la bocca che possiamo fare in tanti modi in questo modo qua o anche in questo modo facendo una semplice V oggi andrò a realizzare questa bocca in questo modo vi prendete l'ago e il filo io la boccuccia la farò col colore viola e poi andiamo a partire dalle due orecchie ci cerchiamo il centro di fronte io vado a posizionare la bocca nella terza riga 1, 2, 3 prendiamo bene le misure e poi entriamo da dietro con l'uncinetto contiamo 1, 2 punti entriamo nel terzo sbucchiamo con l'ago dietro e poi entriamo sotto al centro facciamo passare l'ago e il filo e poi prendiamo il filo sopra e rientriamo nello stesso spazio dove siamo usciti prima entriamo con l'ago tiriamo bene poi dietro andiamo a sistemare i nostri fili è una bocca semplice e molto facile e adesso dietro andremo a fare dei nodini e tagliare il filo e poi ho posizionato anche i miei occhietti di sicurezza una riga sopra la bocca ho lasciato 1, 2, 3 punti e poi ho posizionato il secondo occhio chiaramente voi potete usare bottoni o delle perle o fare anche dei cerchietti con del feltro e poi non ci resta che imbottire il nostro cestino e poi per imbottire i vostri cestini potete usare o questa erba naturale o anche semplicemente solo mettere dell'ovata e poi riempirli di ovetti di cioccolata di caramelle spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao